Ciao a tutti, giorno 9 del calendario d'avvento, speriamo di trovare gli stivaletti come vi dicevo ieri per completare questo outfit qui. Andiamo subito a scoprire se ci sono oppure no. Sì, eccoli qui, guardate! Abbiamo trovato i super stilosi stivaletti della confezione, quindi stiamo per completare l'outfit, guardate quant'è carina! Le mancano solo gli occhiali da sole e poi è completa! Adoro i suoi capelli! A domani, ciao!